amici amiche carissimi una santa serata a me maria bentornati benvenuti ben ritrovati a questa che ormai credo la quarta dovrebbe essere puntata del ciclo di catechesi dedicato alla sana dottrina cattolica e cade nella giorno in cui la chiesa commemora i nostri cari fratelli e sorelle le punti che stanno compiendo il percorso di purificazione post post mortem anche questo sarà certamente a suo tempo insomma un un possibile argomento di di una puntata ecco però vorrei ecco anche se non andremo per un ordine proprio rigoroso però dare un minimo di di filologico diciamo così no questi nostre queste nostre conversazioni per cui questa sera dopo aver parlato diciamo del del primo ecco grande sacramento che è il battesimo certamente abbiamo dato una presentazione sintetica no certamente insomma se uno volesse fare una una presentazione adeguata del battesimo dovrebbe fare dieci catechesi soltanto il sacramento del del battesimo insomma proprio e non sarebbe neanche abbastanza no manteniamo sempre come dire uno stile catechetico divulgativo e formativo c'è quindi importante che si respiri un po sani i polmoni quello che è il cuore no nessuno di noi credo che aspiri a diventare un teologo ecco tutti noi io per primo aspiriamo a diventare dei bravi cristiani ecco poi speriamo anche qualcosa di più ecco e e per questo come diceva il buon santo maso d'aquino non ci vuole da sapere chissà cosa la sana dottrina cattolica si fonda su poche idee chiare e distinte noi per per poter orientarci bene ci siamo già detti più di qualche circostanza cioè molte cose noi di dio e su dio non ne sappiamo non tutto dio ci ha rivelato assolutamente la divina rivelazione che poi quella che costituisce la sostanza e l'ossatura della sana dottrina cattolica non ha rivelato tutto in questo anzi arriva ha rivelato le cose necessarie per avere un'adeguata conoscenza di dio e della realtà e perché noi potessimo raggiungere il fine per cui siamo stati creati questo abbiamo sempre tenerlo presente questo è un argomento molto attuale per la giornata di oggi cioè arrivare in paradiso noi siamo stati creati soltanto per questo capite noi siamo stati creati per la vita eterna noi qui siamo di passaggio quindi quindi tutto quello che il signore ci ha rivelato concorre sempre a questo fine anche la rivelazione della santissima trinità ma se uno sa che dio è trino concorre concorre come c'è sempre questa 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 bussola c'è sempre questa dirittura questo obiettivo in inglese si dice questo gol noi consentiamo di dire gol pensiamo ai calciatori che fanno che che segnano no ma gol in inglese significa proprio il fine il fine ultimo il fine dei fini quello dinanzi a cui tutto il resto va dietro tutto il resto va sottoposto ci stiamo già introducendo questa piccola digressione nell'argomento di questa sera chissà se qualcuno l'ha già individuato da queste prime battute no allora il primo l'argomento di questa sera è l'argomento più bello e più importante che esista in assoluto d'accordo per quello che riguarda la vita cristiana cioè il primo comandamento il benedetto primo comandamento la liturgia ci è venuta in soccorso perché un paio di domeniche fa se non ricordo male abbiamo sentito insomma quel discorso quella domanda del dottore della legge e lo scriva non mi ricordo chi uno dei due a gesù dice senti poco al comandamento più grande anzi il grande comandamento nel testo proprio originale no e gesù era subito diciamo così era subito sciorinato seduta stante comandamento che i maestri di spirito dicono santo maso in particolare è in post c'è per quanto noi ce la mettiamo tutta e se non facessimo altro dalla mattina sera non potremmo non potremmo arrivare a compiere questo comandamento con la perfezione c'è solo un'eccezione c'è solo una creatura che ha compiuto il primo comandamento con la perfezione da parte della creatura è dovuto a dio che è la madonna cioè perché dio è infinito per cui l'amore che merita dio il culto che merita dio il servizio che merita dio è infinito ma noi siamo finiti d'accordo per cui non possiamo non potremo mai nessun modo dare a dio quello che gli è dovuto l'unica salvezza questo santo maso non la sapeva per chi lo conosce è imparare a vivere nella divina volontà perché fondendosi con la volontà divina certo che si rende a dio qualcosa degna di lui ma questo santo maso ancora non non lo sapeva però quello che dio ci chiede è il tutto di noi stessi nell'amore verso verso di lui e a mio modestissimo avviso guardate quello che sta accadendo il contesto storico in cui noi stiamo vivendo evidentemente insomma segnato da una certamente lodevole buona e evangelica e doverosa diciamo così attenzione all'uomo ma dobbiamo sempre ricordare che questo è il grande comandamento il secondo è simile al primo quindi questa gerarchia va assolutamente conservata perché capite quando le cose si tutte le cose che si dovessero dio non voglia invertire nell'inversione sta disordine cioè che capito cioè gli illuministi ai tempi della rivoluzione francese che ha studiato la storia pensiamo anche a un cantano immanuel cant ha affermato un principio io ricordo benissimo sentivo la cosa al liceo mi ha preso un colpo la morale laica di cant cant è proprio l'emblema insomma dell'illuminismo chi ha studiato lo sa i rapporti con il prossimo agisci sempre in modo da trattare il prossimo sempre come fine e mai come a mezzo poi ci bicchia cioè non strumentalizzare non manipolare non utilizzare mai il prossimo quindi metti dinanzi a lui appunto come oggetto della tua attenzione del tuo amore ma questo l'ha detto un laico il nostro amore del prossimo è così punto interrogativo è chiaro che non è così ecco ci introduciamo il primo comandamento che poi si esplica nel decalogo nei primi tre comandamenti cioè anzitutto il primo poi il secondo e il terzo diciamo completano diciamo così i nostri doveri verso verso dio no quindi troviamo queste formulazioni nella formulazione originaria del libro del deuteronomio dove compare per la prima volta proprio in termini teorizzati troviamo all'interno del famoso shema israel anzitutto una cosa simile al primo comandamento perché prima di dire amerai c'è un shema israel quindi ascolta il signore è il nostro dio il signore è uno solo il primo comandamento dice io sono il signore tuo dio quindi la prima cosa d'accordo prima di capire il fare occorre capire bene l'essere e la domanda fondamentale che al termine di questa considerazione dobbiamo porci tutti pure io non possiamo dare la risposta la risposta per scontato manco manco un prete manco un vescovo d'accordo nessuno chi è oggi veramente il mio dio perché io sono il mio dio veramente io sono il signore dio tuo non avrai altro dio all'infuori di me o altri dei di fronte a me a seconda delle traduzioni dopo questa formulazione nel libro del deuteronomio si trova il signore nostro dio il signore è uno solo unico è il signore e si dice amerai il signore dio tuo nel testo ebraico c'è con tutto il cuore quindi attraverso questa triplice dimensione si fa riferimento a tutto l'essere dell'uomo perché c'è la dimensione affettiva nel cuore la dimensione intellettiva nella mente la dimensione come dire effettiva quindi nelle forze quindi con con tutta la tua esistenza con tutta la tua vita questa è la base della nostra vita cristiana allora andiamo con ordine nel vedere questo questo comandamento no allora io sono il signore tuo dio allora anzitutto il termine io sono il signore in ebraico è Yahweh il nome di dio allora la prima domanda che dobbiamo porci seriamente ma come noi sì cioè io sono colui che sono d'accordo è la rivelazione che dio fece di se stesso per questo significa Yahweh Yahweh significa letteralmente colui che è il nome di dio colui che significa se vogliamo usare le parole immortali del catechismo di San Pio X essere perfettissimo d'accordo quando si dice perché a noi ci sono diciamo in termini un pochino astratti e filosofici no dio è l'essere lo dicevano già i filosofi stasera sono un po' in vena di filosofia no è vero è perché io sono colui che sono significa dire io sono l'essere cioè io sono colui che sono è la stessa cosa che di quando ci si dice io sono la vita è la stessa identica cosa d'accordo non è io ho la vita cioè io sono colui la coesistenza non ha inizio non ha fine è trascendente quindi è al di là di ciò che è creato è eterna è immensa ed è la causa dell'essere di tutte le cose del tuo in particolare d'accordo quindi è unico perché capite quando dio si è rivelato si è rivelato in un contesto dove insomma il popolo di israele circolava insomma nei suoi lombi cioè in abramo che era caratterizzato dal politeismo quindi io sono il signore d'accordo tuo dio cioè attenzione per comprendere bene il primo comandamento questo sapete che è un ripasso di tante catechesi che ho fatto quindi ci siamo detti all'inizio di questo percorso qui non diremmo cose nuove qui diremmo cose antiche speriamo in modo nuovo insomma in modo nuovo significa con un tono maggiormente come dire propositivo poco apodittico poco aggressivo circostanziato quindi precisato insomma no allora il cosiddetto ateo non esiste capite quando noi sentiamo dire qualcuno che è ateo non è ateo in senso stretto ma è ateo nel senso che il suo dio non è Yahweh con Gesù sappiamo che Yahweh è la Santissima Trinità d'accordo? non soltanto insomma una monade racchiusa nell'aldilano un ateo non è uno che non ha nessun dio come in realtà il termine sembrerebbe indicare perché ateo dal greco cioè l'alfa primativo di Teos vuol dire senza dio eh no ma il tuo dio non è Yahweh ma l'ateo ce l'hai come un dio nel cuore perché la prima cosa che Dio proibisce è non avrai altri dei di fronte a me ossia altri dei lì fuori di me questi dei non sono solo le divinità pagane che sono il nulla no gli idoli cananei in cui viveva Abramo che tra l'altro ha molti nomi dei cosiddetti dei cananei tipo Moloch per esempio che sta nella Bibbia gli esorcisti dicono essere nomi di diavoli insomma quindi pensiamo che bella religione che c'è con i cananei altri sono il nulla perché Giove non esiste Giunone non esiste Marte non esiste se vogliamo andare gli dei celtici Odino non esiste d'accordo quindi sono rappresentazioni proiezioni ecco di ideali come dire molto molto umani poi generalmente rappresentativi di qualche passione dell'uomo perché Marte è il dio della guerra la dea dell'amore tutte queste cose qui ma non sono soltanto questi gli altri possibili dei il dio il concetto proprio di dio il dio è colui al quale si offre si brucia incenso si offrono sacrifici sull'altare del proprio cuore cioè è ciò o quindi qualcosa o qualcuno in funzione del quale tu vivi questo è dio per te attenzione dio non è questo d'accordo perché dio è la santissima trinità ma quando dici io sono il signore tuo dio ti sta già provo che non avrai altre idee di fronte a me ti sta già provocando dicendo a chi bruci tu l'incenso del tuo cuore a chi bruci l'incenso dell'amore per chi faresti qualunque cosa a chi pensi dalla mattina alla sera per chi vivi e perché vivi questo è una cosa molto profonde ci sono sempre delle spie dicevo oggi durante la santa messa oggi sapete che una sta già online insomma l'omeria ragazzi dico il mese di novembre questo giorno è tra virgolette la festa non proprio tanto la festa insomma il giorno in cui la chiesa ci esorta a guardare alla realtà del purgatorio ci si crede al purgatorio quindi io adesso non voglio ripetere l'omeria chi vuole cosa la va a sentire e che cos'è il purgatorio cosa succede ma e com'è possibile questo dà anche il titolo all'omeria è possibile risparmiarsi un po' di purgatorio cioè se una persona realmente crede ama e vive nella sana dottrina quindi sa bene che cos'è il peccato quali sono le sue conseguenze cosa ci toglie il perdono di Dio cosa resta nonostante il perdono di Dio e come si elimina quello che resta e ci crede che cosa fa se ci crede farà in modo di cercare il purgatorio di farcelo il più possibile sul pianeta terra perché perché non solo il purgatorio fatto sul pianeta terra è più leggero e ti risparmia quello più pesante che è quello che si fa dopo che siamo morti ma anche perché il purgatorio terreno non è solo espiazione e purificazione per prepararti alla visione beatifica ma senza crescere in meriti no perché se noi facciamo un'opera penitenziale non solo ci purifichiamo ma cresciamo anche in meriti quindi la gloria che avremo e quindi il godimento che avremo in paradiso è più grande a partire da qui ma è chiaro che dietro tutti quanti questi discorsi cosa c'è? ci credi o non ci credi? è Dio il tuo Dio vivi per lui? cioè noi viviamo veramente perché la vita cristiana la vita di una persona che mette Dio al primo posto dove Dio è il suo Dio non è una vita come dire che disprezza in maniera mal sana la vita terrena no assolutamente è una vita che vive pienamente la vita terrena perché sa che la vita terrena è volontà di Dio cioè io starò qui sul pianeta Terra io sono qui sul pianeta Terra tu sei qui sul pianeta Terra perché diciamo andato nostro Signore in questo mondo tu hai un compito che devi assolvere hai delle opere che devi compiere e Dio vuole che tu le compia perché hanno un senso nel suo progetto universale globale riguardo la storia perché sono lo strumento per mezzo delle quali tu conseguirai il fine per cui è stato creato che è il paradiso che il Signore ti darà ma ti darà in misura proporzionata alle opere buone che tu hai compiuto questa è la sana dottrina cattolica dicevo sempre durante l'Omelia che non è che in paradiso sono tutti quanti uguali che siccome Dio è misericordioso ma che c'è fa cioè non è così non funziona così cioè chi chi crede o chi dice queste cose se qualcuno dovesse dirle dice delle sciocchezze dice delle stoltezze non è così d'accordo perché un martire o un padre Pio stanno alti in paradiso ma stare alti in paradiso non è un problema come dire che di ah è chi sta più in alto e chi sta più in basso e chi se ne importa tanto a me non mi piacciono gli onori se sto in basso è uguale non è questo il problema il problema è che stare più in alto non è che significa tu fai il capetto fai il boss su quelli che stanno più in basso ma hai un più alto grado di gloria cioè hai dei godimenti e delle beatitudini superiori a chi sta più in basso punto è così cioè se uno va a leggere va a studiare quello che hanno detto fior di concilio e fior di papi è così d'accordo queste cose non è che cambiano siccome oggi il contesto umano è cambiato cioè allora quando noi entriamo dinanzi cioè la bellezza anche che c'ha la vita della chiesa è che tante tante cose non cambiano manco per niente cioè sono sono oggi sono ieri sono sempre d'accordo non c'è possibilità di cambiamento o di adeguamento quelli che cambiano sono a valere della storia i modi gli approcci con cui ci si interfaccia gli strumenti di comunicazione no cioè chi sente sta catechesi oggi io cioè sto parlando cioè un tempo nessun predicatore parlava senza avere dinanzi come dire un pubblico reale diciamo così no che non c'erano questi questi strumenti quindi è chiaro che oggi ci sono questi strumenti che hanno il vantaggio enorme che se uno si vuole sentire da parte di chiunque una predica comodamente a casa propria fa un click e si collega ma la cosa anche molto molto bella per noi poveri predicatori è che quello che dici lo metti online e tra vent'anni cioè la fatica che tu hai fatto questa sera di dire alcune cose sarà fruibile in qualunque momento e a qualunque ora del giorno della notte compresi i tasti pausa da chiunque questa è una grande cosa chiaro che io sono stato a suo tempo insomma dodici anni fa ormai non dico un pioniere però uno di quelli che per dei doni che ha cresciuto dal Signore per la conoscenza di San Massimiliano Maria Colbe insomma degli apostoli della comunicazione subito ho capito insomma la risorsa che davano questi mezzi e una volta che l'ho capito certamente c'è stata di mezzo anche la volontà di Dio ci ho cominciato a investire quindi è chiaro che questa è una cosa atipica e magari all'inizio poi c'è anche qualcuno ma che internet sta per tempo davanti al computer invece devi fare il prete magari qualcuno ti critica anche un po' su queste cose su queste cose la Chiesa è stata sempre nel corso della storia come dire capace di adeguarsi perfettamente ai tempi in cui viveva questo in tutta la storia della Chiesa anche il fenomeno San Francesco per esempio il fenomeno San Francesco cioè e San Domenico è legato questo si vede al processo alla fine del sistema feudale e alla diffusione della borghesia e all'inizio di quella che è la vita nelle città l'abbiamo studiato nella storia ci fu lo spostamento dalle campagne alle città emerge questa nuova classe che è la borghesia che stanno in città che commerciano i vestiti come il padre di San Francesco e che succede? cioè se se si continuava a stare soltanto con i monaci i monaci predicavano alle mosche perché la gente dalle campagne si era spostata il monachesimo come dire era perfettamente funzionale al sistema feudale d'accordo spostato tutto quanto ai comuni e allo spirito santo ispirato San Francesco e San Domenico predicazione itinerante niente posto fisso niente monastero niente stabilità sloci vita itinerante perché andiamo a cercare le persone dove si trovano d'accordo non è che c'è il feudo all'interno del quale c'è il monastero e quindi vengono tutti in monastero perché nessuno si muove da lì adesso il mondo è cambiato e quindi noi anche adesso come dire su questo la chiesa sarà sempre come dire brava guidata dallo spirito santo ma capite questi non sono cambiamenti sostanziali questi sono cambiamenti noi diremmo oggi pastorali diremmo cambiamenti come dire nelle forme nei modi anche nei messaggi insomma se uno andasse in giro oggi comandava in giro San Francesco tutti canti a parlare di San Francesco se noi vedessi io dico sempre questo qua immaginate se voi vedeste in giro oggi uno che va arriva d'accordo San Francesco era insomma a quello che appare alto pochino forse un metro e sessanta insomma quindi era un ometto piccolo piccolo cioè con la faccia scavata quindi con due rughe sotto gli occhi perché versavano un poche lacrime copiose quindi vestito con un sacco che se uno va assisi non c'è l'abitino marrone io scherzo con i miei amici frati minuto bello caruccio che c'hanno adesso no quello era un pezzo era un pezzo di veramente di panno grezzo che sembrava noi sacchi dove uno ci mette dentro le patate no scalzo ma non con i sandali proprio scalzo scalzo con sto vestitino che gli arrivava le ginocchie quindi immaginiamo insomma se uno cammina senza scarpe con il dovuto rispetto c'è c'avrà i piedi l'erci d'accordo cioè tu immagina di che ti trovi davanti uno così oggi che fai ah San Francesco San Francesco San Francesco chiami la neuro chiami no cioè d'accordo perché questo messaggio che in quel contesto loro sono vissuti in un tempo dove c'era proprio un un cult quindi un boom di ordini mendicanti molti dei quali ereticali quindi quel messaggio a quei tempi era un messaggio forte era un messaggio che attraeva dice questi sono dei veri discepoli di Gesù oggi ti dicono questi sono scemi d'accordo quindi bisogna trovare altre forme di radicalismo evangelico che siano riconosciute come tali oggi no quindi ma la sostanza delle cose non cambia quindi la sostanza delle cose non cambia ci può avere ci può essere uno sviluppo abbiamo anche questo visto nelle puntate precedenti quindi una crescita nella comprensione una puntualizzazione una ulteriore dilatazione ma un cambiamento dottrinale non ci può essere mai la chiesa è fatta così capito quindi chiunque pensa o dice altro da questo pur appartenendo come dire al corpo visibile della chiesa ammesso che ci appartenga ne è completamente fuori d'accordo e quindi e commentare deve essere considerato su questo mi raccomando allora il tuo dio io sono il signore tuo dio allora se Yahweh il tuo dio si vede subito perché a dio come Gesù disse a satanasso durante la terza tentazione la prima cosa che bisogna fare è rendere culto culto interiore e esteriore culto che significa culto significa significa culto cioè significa tu sei grande significa tu sei la mia vita significa tu mi puoi chiedere qualunque cosa significa io ti voglio conoscere io ti voglio servire allora torniamo alla formulazione del primo comandamento no e cominciamo subito a decodificare un po' di possibili peccati perché quando uno ha un precetto positivo il primo comandamento è duplice io sono il signore dio tuo quindi esame di coscienza lui è il signore dio tuo o ci sono altri idoli seduti intronizzati sul tuo cuore non avrai altri dei dinanzi a me allora andiamo subito a vedere il culto che è dovuto a dio che significa è avvenuto il momento di giugno del vangelo in cui gli adoratori adoreranno il padre in spirito e verità allora il primo dovere che noi abbiamo in forza del primo comandamento sapete qual è è conoscere dio immortale catechismo di san pio decimo tu non puoi rendere a dio il culto che gli è dovuto se non sai nemmeno chi è facciamo subito un esempio peccato grave contro il primo comandamento questo nella versione storica arcaica di dieci comandamenti mi sentirete fare fulmini a ciel sereno su queste cose qui no una persona entra in chiesa e non genuflette dinanzi al santissimo sacramento che significa sono due le cose o non sa chi c'è lì dentro d'accordo oppure non ci crede pur sapendolo oppure ma questo vuol dire che è già un mezzo diavolo lo sa ci crede e rifiuta di rendere il culto che gli è dovuto d'accordo allora è chiaro che perché al tabernacolo si fa la genuflessione si fa la genuflessione perché noi crediamo che nell'ostia consacrata rimane la presenza viva reale sostanziale di nostro signore gesù cristo ma tu ti devi informare su questa cosa perché durante la santa messa almeno durante l'epiclesi oggi abbiamo avuto una sana conversazione con con un caro amico no perché durante le liturgie dice quando è che bisogna stare in ginocchio allora secondo il messale della forma ordinaria della santa messa quindi non quello che adesso vedremo scritto sulla terza edizione è prescritto dall'epiclesi fino al mistero della fede ma attenzione che c'è scritto che se qualcuno o da qualche parte conserva il lodevole uso dello stare in ginocchio dal santo fino al mistero fino al per Cristo con Cristo e in Cristo come era e come è nella forma straordinaria del rito romano ha certamente questo nessuno gli vada a dire che è un fuori di testa anzi è lodevole e può fare questa cosa quindi non è più obbligatoria ma si può fare tante queste cose bisogna informarsi bisogna formarsi e informarsi allora durante la confessione per chi fa la confessione in generale è vero diciamo mi sono tanto allontanato di fatto tante cose ma la grande trascuratezza del primo comandamento la prima è l'indifferentismo o l'indifferentismo cioè o proprio il non voler conoscere oggi ci abbiamo proprio una piaga sociale d'accordo perché tutta questa montagna di pseudocultura nichilista laicista umanista che ci circonda ha reso fondamentalmente questo era proprio l'obiettivo dichiarato di grandi pensatori a cavallo tra la fine del secolo dei due secoli fa all'inizio dello scorso Dio inutile cioè la maggioranza della gente oggi non fa la guerra frontale al Signore come era per esempio ai tempi delle ideologie quando c'era il comunismo come dire rampante duro e puro d'accordo o gli stati totalitari duri e puri insomma no di oggi non serve non serve e infatti che tipi di riconoscimenti vengono dati anche agli ambienti di chiesa cioè la chiesa ricordiamo tutte le altre polemiche cioè se la chiesa svolge dei ruoli come dire socialmente utili ah va bene ma se la chiesa sazzarda qualche volta a parlare di questioni etiche morali pensate al recentissimo documento io ci ho scritto un articolo da poco bellissimo non lo conosce quasi nessuno la Samaritanus Bonus della congregazione della dottrina della fede bellissimo un documento dove c'è una condanna assoluta dell'eutanasia e di tutte quante le forme insomma disordinate folli insomma di intervento sul fine vita magistrale d'accordo ah però se la chiesa fa così allora non ci interessa più niente allora si facesse gli affari suoi lo stato è laico e legiferiamo noi però se invece si occupa di altre questioni utili insomma ci stanno le caritas oppure allora va bene quindi c'è questa c'è questa realtà allora questa realtà è figlia del cosiddetto indifferentismo religioso cioè il problema è che Dio non mi serve che ci devo fare con Dio c'ho la medicina c'ho la scienza c'ho l'iPhone c'ho internet c'ho la macchina c'ho la previdenza sociale cioè Dio non serve che ci faccio questo è quindi la prima modalità di attuazione del primo comandamento è investire tempo che è un dovere non è un un optional nel conoscere il nostro Signore noi non possiamo pensare di rimanere oggi alla conoscenza che abbiamo avuto di nostro Signore ai tempi del catechismo della prima comunione e della cresima perché a parte la crisi della catechesi che ormai dilaga da 50 anni insomma no perché tutti contro il catechismo è un esempio decimo perché dicevano che era troppo nozionistico va bene va bene io non sono tanto d'accordo dico va bene vediamo cosa cosa abbiamo fatto di diverso cioè io ho sentito anni addietro autorevolissimi vescovi non poveri predico come me dire sì abbiamo tolto il catechismo di esempio decimo sperando che ci fosse qualcosa di meglio di meglio e invece adesso ci troviamo dinanzi al nulla cioè almeno prima un ragazzino che Dio era uno e trino ce l'aveva abbastanza chiaro a pappagallo almeno il motivo per cui Dio ci ha creati lo sapeva perché se non gli rispondevi che Dio mi ha creato per conoscere amarlo e servirle in questa vita con te o nell'altro non ti facevi la prima comunione certo che non basta saperlo a pappagallo però sai una volta che tu c'è questa informazione pappagallesca magari quando cresci un po' ci cominci a pensare che significa che Dio mi ha creato per conoscerlo per amarlo e per servirlo per goderlo d'accordo quindi non è tutto è qualcosa è chiaro che Dio non è un testo filosofico che si studia o un manuale che si immagazzina Dio è un Dio vivo e vero con cui si entra in rapporto personale a una famiglia che deve essere vissuta che era chiesa eccetera eccetera però certamente è possibile un approccio come dire a maggior ampio raggio no però piuttosto che poco è meglio che nulla credo no molte volte quello che si resta è il nulla io senti anni addietro sempre insomma qualche aneddoto ricordante insomma un vescovo un po' imprudente che una volta entrò dove andare a fare l'egresimo insomma ebbe la malaugurata idea prima di uscire di fare qualche domanda di catechismo ai cresimandi l'ha fatto quella volta dopodiché non l'ha fatto più perché si è sentito male perché da quello che ha sentito doveva mandarli tutti quanti a casa perché il livello insomma di conoscenza era rasentante lo zero allora siccome il vescovo diceva io se il parro come li presenta mi fido di lui è meglio che facciamo occhio non vede cuore non duole se non li mandano tutti quanti alla casa l'indifferentismo religioso è un problema grosso perché se tu non conosci qualcuno gli rendi il culto che gli è dovuto d'accordo pensiamo un'altra cosa perché la gente terzo comandamento non va a missa la domenica anche qua perché non va a missa la domenica a potarsi con una persona rifiuti proprio coscientemente e questo sarebbe una cosa molto molto grave di sottomettersi alla legge di Dio di Dio di Dio di Dio il culto che gli ha dovuto d'accordo perché la gente lavora anche la domenica per esempio anche quando non è necessario ce lo vogliamo dire o non ce lo vogliamo dire chi è il Dio di chi lavora anche la domenica i soldi sono capito il Dio sono i soldi nostro signore ha detto un giorno alla settimana non sta a pensare i soldi cioè un giorno alla settimana dedicalo a pensare a sentite la catechesi d'accordo oltre che andrà a messa cioè a capire che tu non sei stato creato per questa vita i soldi perché sono un grosso idolo un grosso problema perché i soldi sono una cosa che serve in questo mondo perché cosa oltre che per campare e per vivere anche per trovare un sacco di sfizi un sacco di altre cose che mi riguardano la vita di questo mondo e come è arcinoto d'accordo i soldi hanno un principio hanno un doppio principio anti come dire anticristiano per antonomasia perché i soldi più uno ce n'ha e più li accumula non bastano mai e più uno ce n'ha e meno li condivide quindi portano un doppio principio egoistico il principio dell'accumulo e il principio del mi tengo tutto per me che è proprio l'antivangelo per antonomasia d'accordo allora però una persona che lavora la domenica deve anzitutto accettare di confrontarsi col vangelo perché nostro signore non vuole che si lavori di domenica non posso io dire ah cioè vedete che adesso magari poi faremo i comandamenti uno per uno perché ci sono le attività socialmente utili chi è costretto a lavorare perché fa il medico perché fa il carabiniere chi lavora nell'ambito della ristorazione a certe condizioni insomma ci sono tuttanto una serie di realtà che hanno diciamo così delle gradazioni differenti per quanto riguarda ma il concetto comunque fondamentale è questo cioè uno perché non va a messa perché non si rende minimamente conto di quello che è la messa ma attenzione questo non rendersi conto perché molti sapete quanta gente va a confessare che succede quando tu presenti una predicazione forte esplicita chi ti ascolta ha due reazioni o si sente toccato nel cuore quindi ti manda a quel paese spegne diceva morì eccetera eccetera oppure non spegne come successe negli atti degli apostoli a quelle parole si sentirono a trafiggere il cuore quindi prende coscienza di una serie di cose però prende coscienza perché prima non lo sapeva e ho capito quindi questo non saperlo diminuisce la responsabilità attenzione però la responsabilità diminuita da questa inconsapevolezza si fa però recuperare da un'altra fonte cioè come mai non sapevi può darsi che tu abbia cercato o che hai avuto e non hai trovato o che hai avuto cattivi maestri in quel caso davanti al signore sei abbastanza giustificato ma se tu non hai cercato e non sei giustificato perché conoscere Dio è un dovere ma Don Leonardo ma oggi sai in giro che sentono tante cose non è così facile trovare allora la mia esperienza è questa d'accordo anche se viviamo un tempo evidentemente non come dire non florido non al massimo della prosperità diciamo così dentro la nostra amata e cara chiesa quello che però poto constatare è che se una persona sinceramente cerca trova perché Dio non ha né abbandonato la chiesa ma è vivissimo presente dentro la chiesa né tantomeno abbandona un figlio che sinceramente lo cerca certo può darsi che faccia un pochino di fatica non è escluso che possa fare qualche brutta esperienza non è escluso che possa imbattersi in un cattivo pastore anche d'accordo anche può succedere quindi non ci nascondiamo Dio voglia che non ci diventi mai io spero di non essere lo stato spero che non ci diventi insomma no quindi potrebbe succedere a tutti ma può succedere ecco però chi cerca trova quindi il primo dovere nei confronti di Dio è attivarsi per poterlo conoscere e porsi la grande domanda perché vedete io sono il Signore Dio tuo allora la grande domanda delle domande che sta ancora prima il primo comandamento è ma Dio esiste o non esiste perché prima di conoscerlo bisogna averlo in qualche modo cercato e aver risolto il problema Dio esiste o non esiste anche qui attenzione le persone che affermano la non esistenza di Dio quindi si dicono ate ma non nel senso assoluto come abbiamo visto ma nel senso che non riconoscono il carattere di Dio a chi ce l'ha cioè a questo essere trascendente chiamiamolo così per ora la sacra scrittura e vi cito due brani non dice che l'ateo dice Dio non esiste ma lo stolto dice Dio non esiste c'è il salmo 13 e il salmo 52 13 1 comincia proprio così lo stolto pensa non c'è Dio e il salmo 52 chiosa lo stolto pensa Dio non esiste sana dottrina cattolica il concilio vaticano primo non c'è solo il concilio vaticano secondo il concilio vaticano primo nella costituzione dogmatica dei filius ha affermato essere dogma di fede e attenzione quindi questa è una verità definita che l'uomo con la sola ragione naturale quindi senza bisogno di una rivelazione esplicita può arrivare con certezza a stabilire che un essere ci deve essere perché perché il nostro signore ci ha donato una testolina e far funzionare la testolina è il nostro dovere non possiamo noi trincerarci dietro un dito perché il nostro signore quando andremo dall'altra parte ci dirà scusa fratello scusa figlio mio ma tu che sei tanto istruito tu che sei vissuto nel ventunesimo secolo lo sai che la terra adesso sappiamo tutti quanti trigentoni no la terra viaggia tu sai che la terra sembra che è ferma no la terra non è ferma è un mal di testa insomma viaggiamo a 1800 km in continuazione insomma quindi cioè quindi tu sai che se la terra poco poco girasse a una velocità leggermente differente o ci avesse un'inclinazione un po' meno con un grado in più con un grado in meno o se poco poco anziché metterci 365 giorni 6 ore e circa 20 minuti a fare il giro sballasse di qualche secondo cosa va a succedere insomma te lo sei mai chiesto viene dal caso tutto questo qui lo sai che caso è un anagramma di caos ed è la risposta degli stupidi non delle persone istruite perché le persone istruite sanno che ogni cosa ha una causa cosa causa non caso caos capite ecco io ricordo c'era su un libro di filosofia della scienza purtroppo non mi ricordo qual era il titolo ma mi ricordo benissimo questa frase qui che avevano fatto un calcolo delle possibilità in base alla conoscenza attuale che sia dell'universo e delle sue leggi che questo si sia fatto da solo allora ci sono le stesse probabilità che se un gatto questo l'ho raccontato tante volte tu lo mettessi su un pianoforte i gattini che adesso stasera non mi stanno alietando se no come sono dei miei gattini io mi compro un bel pianoforte ce lo metto sopra e improvvisamente zompettando sul pianoforte mi suona la nonna di Beethoven se qualcuno un gattino fa questo su un pianoforte bene sono le stesse probabilità che l'universo si sta dal caso che si sia fatto da solo quindi attenzione chi dirà a Dio e io che ne sapevo che tu esistevi Dio gli risponderà non brutto ateo miscredente mangia preti non è ascoltato il parroco non è ascoltato il vescovo non è ascoltato il papa no 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 non gli dice tutte queste cose qui non gliele dice gli dice senti un po' ma tu non sei mica come gli animali ragionevoli tu la testa ce l'hai e non ti vai a chiedere da dove viene tutto questo te lo devi chiedere una volta che te lo sei chiesto quindi qualcuno c'è tu ti devi chiedere anche qui tutto quanto il discorso delle religioni e poi della nostra la santa fede divina e cattolica l'uomo religioso l'uomo religioso cioè che ci sia un qualcuno cosa sono le religioni cominciano a essere delle forme con cui l'uomo in qualche modo arrampicandosi sugli specchi cerca di raggiungere questa misteriosa entità che ci deve stare d'accordo perché lo avverte cioè in tutte quante le culture antiche questo era era immediato sono le follie contemporanee che hanno anestetizzato diciamo così questo spirito umano con il mito della pseudoscienza allora chi è questo dio allora lì nasce il compito di conoscerlo e nasce anche come dire la chiamata universale alla fede divina e cattolica noi abbiamo ricevuto da Gesù il compito andate e portate il Vangelo a tutte le creature portateglielo non imponeteglielo ma dopo che Gesù Cristo è venuto sulla terra tutti hanno il diritto il diritto e dobbiamo soddisfarlo noi di sentire da qualcuno guarda figlio mio che se stai cercando chi è Dio non è che io te lo dico io ti dico che è venuto Dio stesso sulla terra a dircelo quindi mettiti in ascolto di lui come l'ho incontrato io se vuoi se non ci credi come dice Gesù si scuota la polvere dai sandali e si va altrove ma noi glielo dobbiamo dire però questo dovere però di conoscere Dio non è soltanto di chi ancora non conosce la santa fede divina e cattolica ma anche chi c'è nato e che magari ha trascurato un po' tante cose ha il dovere grave di curare la propria formazione d'accordo perché poi certamente poi arriva a una certa età si sente qualche catechesi così gli prende un colpo perché vede insomma che nella vita ha fatto un sacco di 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 macelli quindi poi di corsa va subito a cuore però io non lo sapevo dico sì allora ripeto ci sono due tipi di ignoranza l'ignoranza incolpevole l'ignoranza colpevole se tu hai cercato e non hai trovato è una cosa un po' difficile perché chi cerca trova è un discorso se tu sei stato traviato da cattivi maestri peggio ancora ma se tu come dire hai fatto il figlio il prodigo nel senso dice ma a me non me ne importa niente voglio farmi la vita mia e qui c'è una come dire c'è un difetto alla radice rendere culto a Dio quindi riconoscere Dio come Dio e dargli il culto che gli ha dovuto presuppone la conoscenza perché cioè se tu credi che cioè voi guardate un attimo a ripensare io per esempio nella mia esistenza l'ho vissuto questa cosa cioè prima di entrare in seminario per quanto insomma io non è che cioè secondo me non ci credevo tanto nella presenza reale di Gesù non mi vergogna a dirlo perché non è che non ci volevo credere ma non ce l'avevo tanto tanto chiara ce l'avevo avuta chiara quando mi sono questo dico come stavo a scherzare appena ho avuto questa chiarezza interiore mi ho cominciato a fare 300 mila genufessioni cioè e quando resta Gesù esposto io sto in ginocchio ma non è che dici ma quanto è bravo quanto è devoto ma non è no cioè perché se tu ci credi a chi c'è davanti ma come ma come voi sta la messa se uno come dire sarà la dottrina cattolica conosce cosa pensa la chiesa cosa dice la chiesa sulla messa ma io quante volte l'ho detto ai miei fedeli l'avrete sentito insomma chi mi conosce cioè una persona che non va a messa o è ignorante anche qui quasi certamente colpevolmente ignorante o è pazza d'accordo tu sei proprio matto perché se tu credi a quello che è la messa a quello che succede ma non ci andrai soltanto la domenica cioè non ci andrai soltanto la domenica ti verrà spontaneo magari non ci può andare tutti i giorni forse perché la famiglia il lavoro adesso non lo so come uno cioè ma cioè la messa è la cosa cioè una cosa più grande della messa se il nostro signore l'avesse voluto non se la poteva inventare quindi cioè non c'è è chiaro che se tu cresci nella trascuratezza religiosa quindi vai lì e ci stai così un po' impalato ti sembra un rito poi insomma anche qui oggi sappiamo bene insomma un saluto al nostro Papa Emerito Benedetto XVI mi ricordo sempre insomma le sue uscite insomma sugli abusi liturgici e le sue raccomandazioni sull'Ars Celebrandi che diceva insomma che siamo arrivati a un punto ed è peggiorato rispetto ai tempi in cui era Papa lui non è che è migliorato dice ci sono degli spettacoli che tra pressa pochismo e abusi siamo arrivati al limite del sopportabile quindi veramente cioè così diciamo le circostanze esterne non è che te la alimentano tanto la fede te la fanno perdere se ce ne avevi un pochino tutte le circostanze attenuanti del caso ma una persona insomma che che crede che cosa l'ha messa una persona che crede che durante la consacrazione scende Gesù in persona quando il sacerdote alza l'ostia la croce si sta alzando si sta piantando sul monte Golgota ma come fai a non stare in ginocchi una persona che crede che quando ha fatto la comunione ha ricevuto Gesù Cristo nel cuore questa è un'altra cosa ma come fa appena fatta la benedizione a uscire dalla chiesa ma con che coraggio capite allora vedete come la conoscenza si va a poi come dire a fondere col grande tema della fede perché la fede è una forma soprannaturale di conoscenza crisi di conoscenza significa crisi di fede ma e su questo oggi cioè io sono convintissimo di queste cose che sto dicendo ormai ho anche 16 anni di sacerdoti alle spalle 16 anni e mezzo lo dico sempre 16 ma il tempo passa cioè indifferentismo religioso mancanza di conoscenza di Dio e crisi di fede ma proprio crisi grossa di fede sono e altro che coronavirus d'accordo cioè sono proprio pandemici sono proprio a livello universale capite e sono piaghe sociali capito e sono mancanze gravissime e non confessate contro il primo comandamento se uno la fede l'ha persa se è battezzato tu la fede ce l'hai perché il battesimo l'abbiamo visto infonde le virtù teologali insieme alla grazia è chiaro che non si tratta di una cosa che tu hai garantita intoccabile immutabile intangibile è affidata alla tua custodia è l'abito di una virtù la fede ha bisogno di essere alimentata deve essere approfondita deve essere conosciuta altrimenti la perdi è inutile dire ma magari guarda quello che fede che c'ha magari ce l'avessi pure io quella fede questa è una stoltezza tu ce l'hai quella fede perché tu sei battezzato se non c'hai la fede come quel tizio e come quel caio è perché a differenza di quel tizio e di quel caio tu la tua fede l'hai lasciata morire non l'hai approfondita l'hai lasciata morire per mancanza di acqua come una pianta quindi niente sacramenti niente preghiera ma anche niente conoscenza allora il primo comandamento non l'abbiamo praticamente neanche neanche cominciato perché il comandamento obbliga ad amare però amare Dio con la mente è questo è questo è non essere indifferente al problema Dio far funzionare il cervello per risolvere il quesito sulla sua esistenza attivarsi perché noi siamo cattolici i martiri sono morti per essere fedeli a Cristo proviamoci a chiedere ma se tu ti mettessero davanti adesso rinnega la fede o io ti ammazzo ma tu lo faresti ti sicuro lasciamo perdere la debolezza perché io anche insomma c'erei paura insomma davanti uno con un'arma con una scimitarra insomma che ti può fare del male noi non siamo insensibili no ma tutti quanti i martiri dicono lì ci pensa nostro signore tratta lui la forza ma tu lo faresti tu lo faresti punto interrogativo è così importante se è così certo leggiamo gli atti dei martiri diceva il martirio di San Cipriano dice ma tu pensi che quel Cristo io penso io non ho nessun dubbio e tu pensi che se adesso ti ammazzo dopo che ti ho ammazzato andrai in paradiso nei posti che dite voi cristiani risposta senza nessunissimo dubbio ne sono sicuro sbrigati a fare quello che devi fare capito questo è quindi noi cristiani viviamo in un tempo ormai diverso tempo che siamo che pare che i cattoli sono complessati perché quelli del mondo hanno la scienza hanno la cultura hanno il monopoio di tutte le cose e invece noi bianchi ancora crediamo a queste cose stiamo si zitti ma stiamo si zitti ma te che ma stiamo scherzando stiamo cioè senza nessuna boria senza nessuna baldanza senza nessuna come dire spirito come dire di disprezzo del prossimo eccetera eccetera no cioè ma noi siamo fierissimi di quello in cui crediamo contentissimi e soprattutto certissimi la prossima volta se mi ricordo comincerò da una frase di Monsignor Fisichella adesso mio professore di teologia fondamentale attuale arcivesco non mi ricordo insomma che ha le grandi incariche del Papa non ammette dubbi il dubbio è contrario alla fede se c'è il dubbio non c'è la fede se c'è la fede non c'è i dubbi ci lasciamo con questo d'accordo abbiamo così capito che un primo grande due primi grandi due tre grandi peccati contro il primo comandamento sono uno non mettere al posto di Dio colui a cui quel posto appartiene cioè Dio secondo non applicarsi a conoscerlo e terzo lasciare che la fede che abbiamo ricevuto nel battesimo se ne vada a fare benedire e la nostra vita diventi peggio che se non fossimo battezzati insomma quindi peggio dei catecumeni va bene ci vediamo la prossima settimana lunedì o martedì più probabile lunedì perché adesso cominceranno pastorale con ci saranno degli impegni a carattere quindicinali con la parrocchia e il martedì e siccome insomma è proprio un problema che non solo di stanchezza ma la voce a un certo ora se ne va via non avrei la voce sufficiente per fare un'altra ora di catechesi quindi probabilmente adesso con l'inizio dell'anno pastorale dovremo spostarci alla lunedì grazie per chi ha seguito la diretta ringraziamo insieme il Signore se ne è uscito qualcosa di buono una santa notte a tutti e che Dio vi benedica e la Madonna vi protegga Ave Maria